Fa venire tanta voglia di guidare e di piegare il nuovo Aprilia SRV850. Non solo per i dati tecnici, il propulsore infatti è il più potente della categoria, ma anche per il design, completamente nuovo ed ereditato dalle sorelle sportive di casa Aprilia. La parte frontale è caratterizzata da un cupolino particolarmente aggressivo. Il triplice faro della RSV4 infatti si abbina alle prese d'aria posizionate appena sotto ed insieme alle appendici aerodinamiche contribuisce ad un quadro particolarmente aggressivo. Aprilia SRV850 offre un design accantivante anche nella zona posteriore, con la parte verniciata del codino che chiude appuntita proprio come sulla sorella RSV4. Allo stesso tempo il faro è ereditato dalla Dorso Duro 1200. Le generose dimensioni del tunnel centrale celano lo schema ciclistico, composto da un telaio a doppia culla in acciaio alto resistenziale. Il propulsore da 839 cm3 sprigiona 76 cavalli ed una coppia di 76,4 Nm, con ben il 95% della coppia disponibile già a 3.000 giri. Per favorire l'agilità di guida e la dinamica, il propulsore offre un albero motore e il gruppo trasmissione che ruotano in senso opposto per garantire stabilità e diminuire le vibrazioni. Il listino di Aprilia SRV850 è abbondantemente al di sotto dei 10.000 euro. Purtroppo non è disponibile in versione ABS e non ci sono particolari controlli elettronici alla trazione, ma l'efficacia di guida sia su strada che eventualmente anche in pista lo pongono ai vertici della categoria.